Un momento come questo nel quale impazzia il calciomercato, Massimiliano Bussellato è al di fuori di qualsiasi voce perché tu da quest'anno ti sei legato al pescare e stai bene qui? Sto benissimo qui, sto bene io, sta bene la mia ragazza, il calciomercato è molto imprevedibile, non potrei mettere la mano sul fuoco, però presumo che rimarrò. Come giudichi questa prima parte della stagione da un punto di vista di squadra e personale? Dal punto di vista personale sono abbastanza contento, ho avuto un minutaggio elevato, non me lo aspettavo all'inizio dell'anno, c'è molta concorrenza ma è una concorrenza sana che stimola a far sempre meglio. A livello di squadra penso che abbiamo fatto un buon girone d'andata, purtroppo abbiamo commesso qualche errore di troppo che ci ha costato qualche punto, ma cercheremo di non ripeterli nel girone di ritorno. Sbaglio, poco fa hai detto i playoff, è doveroso provarci, è doveroso farli? È doveroso farli no, è doveroso provarci assolutamente sì perché siamo una squadra secondo me ottima per la categoria, come detto dobbiamo cercare di limare i nostri difetti e commettere meno errori possibili perché ultimamente le partite su minimo errore rischiano di perdere punti importanti. Tu sei un ex della Salernitana e all'andata la prima giornata fu una delle prove forse più brutte del Pescara, è lecito attendersi qualcosa di diverso, molto è cambiato da allora, si sono trovati anche nuovi equilibri? Molto è cambiato, è stata una partita dura per noi perché ci hanno messo sotto, cercheremo di invertire la partita che è stata l'andata, cercheremo di far meglio e cercheremo di batterla. Salerno che ricordi hai di quella tua esperienza? Per me è stata un'esperienza fantastica, è una piazza molto esigente che però ti fa giocare alla grande perché ti mette quel pizzico di pressione di cui tutti i giocatori hanno bisogno, la città è una città bellissima in cui sono stato veramente veramente bene, ho solo un ricordo positivo dell'esperienza Salerno. L'ultima non sei conosciuto per essere un centrocampista che fa tanti gol però qualche gol lo fai, è lecito attenderselo? Lo spero, è vero, non ne faccio tanti, spero di migliorare questa statistica perché è fondamentale per un giocatore di centrocampo fare gol.